Incidente mortale a Gorizia stamattina verso le 9.30 sulla 56 bis nel tratto di strada tra il quartiere di Sant'Andrea e Mossa. La vittima è un camionista, un 55enne goriziano dipendente di Zontina Ambiente. All'altezza del ponte su Lisonzo, a un centinaio di metri dall'incrocio con via Gregorchic, l'auto articolato con gru che trasportava materiale ferroso diretto a un deposito, si è scontrato per causa ancora da chiarire contro il cavalcavia. Non riuscendo a passare sotto il ponte, il mezzo è stato sbalzato e la cabina si è staccata, fino a sbattere violentemente contro il ponte stesso. L'autista è rimasto schiacciato insieme alla cabina ed è morto sul colpo. Il rimorchio fuori controllo ha invece invaso la corsia apposta, dove fortunatamente non transitava nessuno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gorizia, la polstrada e i carabinieri, oltre al personale sanitario, anche con l'elisoccorso. Nel forte impatto è stata lesionata una trave del ponte, tanto da costringere a emettere un'ordinanza immediata di chiusura della regionale 117 e dell'arteria di collegamento che utilizza il manufatto. Deviazioni sono state disposte sulla viabilità locale. Grazie. Grazie.